Qual è il rapporto fra tecnologia e finanza? La tecnologia in finanza non è stata mai utilizzata secondo me nel modo corretto. La tecnologia spesso è stata utilizzata per creare prodotti nuovi, per aumentare la complessità dei prodotti. È sempre stata usata dall'offerta come elemento di differenziazione, come elemento di costruzione del mercato. Non è mai stata usata veramente, come è successo in tantissimi altri settori, per aiutare il cliente, per migliorare il rapporto col cliente, per rendere più facile l'accessibilità alla finanza da parte del cliente. Per cui, secondo me, è un uso abbastanza improprio. È stato fatto in maniera prodomo dell'offerta. E come si posiziona A come A rispetto alla tecnologia? Stiamo cercando di usare la tecnologia a favore del cliente. Stiamo cercando di usarla per facilitare l'accesso e non per i nostri prodotti, per cambiare i prodotti. Noi abbiamo una gamma di prodotti semplice, che è così da diversi anni e rimarrà così in futuro. Quello che abbiamo lanciato sul mercato utilizzando la tecnologia è un prodotto che si chiama Gimme5, che consente agli utenti di accedere in modo facile agli investimenti. Per cui loro possono utilizzare i loro risparmi, investirli nei fondi A come A, scaricandosi una app dallo store e con un click molto semplice poter cominciare a investire a partire da 5 euro. Ci lasciamo adesso per pochissimi istanti di pubblicità, però la puntata è ancora lunga, quindi rimanete dove siete perché ci vediamo tra poco.